Salve a tutti. Voglio fare un gioco con voi. Avete fatto finta di curarmi. Ma quello che ho in mente per voi è molto reale. Vi conviene rimanere vigili. Ho ancora molto lavoro da terminare. Con tanti da truffare, hai scelto proprio John Kramer. Questa non è una punizione, è un risveglio. Vivere o morire, a voi la scelta. Grazie.